Un po' di ansia? Quelli che vedete tutti in fila sono consiglieri comunali, agenti di polizia municipale che il sindaco oggi sta sottoponendo ai test rapidi. Il primo è il comandante della polizia municipale, uno dei più esposti al contatto con l'agente. Allora il dottore ci spiega come funziona? Il primo passaggio è quello di pungere con un apposito pungidito, meglio il dito medio del soggetto da esaminare. Dopo aver deterso la parte si fanno uscire poche gocce di sangue, questo sangue viene aspirato all'interno di un'apposita pipetta, poi il sangue viene collocato nel pozzetto del dispositivo che ci servirà per leggere il risultato. Vengono aggiunte due gocce di reagente specifico, si aspetta qualche minuto e si verifica il risultato. Negativo? Aveva timore? Beh un po' di ansia sì, un po' ci esponiamo al rischio, è inevitabile. Rifacciamo un attimo a Chirizzi del timore? Perché lo state rifacendo? Questa strisciolina qui che vorrei in qualche modo riverificare, quindi lo stiamo rifacendo nel dubbio. Lei è immunologo tra i fondatori di un'associazione che regala anche grazie alla gara di solidarietà migliaia di test rapidi ai comuni che ve li stanno chiedendo. Questo non vuole per nessuna ragione creare una situazione di sostituzione o comunque di altra attività che si svolge rispetto a quanto realizzato egregiamente dalla Task Force pugliese. Uno studio dell'Istituto Oncologico di Bari che ha sostanzialmente sancito una perfetta sovrapponibilità tra i risultati del tampone e i risultati dei test rapidi, almeno di alcuni test rapidi. E quindi a fronte di questo voglio dire abbiamo ritenuto soltanto con spirito di servizio di mettere a disposizione una dotazione diagnostica. I cittadini ci hanno chiesto in tanti la somministrazione di questo test sierologico rapido, ma il Comune lo fa attraverso i medici di base. Qualcuno già l'ha data la disponibilità, altri invece stanno aspettando che arrivi qualche monito ulteriore dal Ministero.